Iniziative come Comieco sono occasioni per mostrare ai cittadini cosa succede alla carta e al cartone, una volta avviati a riciclo, grazie alla raccolta differenziata che, se svolta correttamente, non apporta solo benefici ambientali, ma anche economici. Nel caso dell'Aquila, infatti, sono quasi 240.000 euro i corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone sul territorio urbano. Salutiamo con entusiasmo l'iniziativa di Comieco, ha dichiarato l'assessore all'ambiente del Comune dell'Aquila, Emanuele Imprudente. Le politiche legate alla promozione e gli incentivi alla raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle azioni strategiche programmate dall'amministrazione comunale e, in particolare, dall'assessore all'ambiente. Questa iniziativa entra perfettamente in linea con quello che è l'indirizzo che si è dato a questa amministrazione, che è quella insieme all'SM, di promuovere campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda la raccolta differenziata. Nello specifico, oggi siamo qui e ci fa pienamente piacere che la città dell'Aquila è stata scelta, come le cinque città in Italia, per il Palago Emego. Saranno dei giorni fino a domenica dove verranno illustrati ai bambini la mattina e ci avremo una presenza di circa 700 bambini, quello che è il sistema di riciclo e di utilizzo della carta, cartoni, imballaggi e l'importanza che ne può derivare da questo tipo di ciclo virtuoso. Dicevo, un elemento importante perché l'indirizzo dell'amministrazione è quello di iniziare nella denuncazione del riciclo, del riuso e della raccolta differenziana partendo dai ragazzi, perché è soltanto con loro che si può creare quella cultura che è così importante per far sì che le nostre città siano più vivibili, ci sia una raccolta differenziata vera, insomma ci sia un rispetto vero dell'ambiente. In questo quadro una corretta e puntuale informazione, soprattutto ai bambini e ai ragazzi, sulle dinamiche del riciclo e su come queste buone pratiche possono incidere sull'ambiente e sulla qualità di vita, rivestono senz'altro un ruolo determinante. Imparare divertendosi è l'approccio migliore e, in questo caso, sta il valore aggiunto dell'iniziativa. Un grazie dunque, ha concluso l'assessore, a Comieco e all'SM per la sinergia messa in campo. Ci abbiamo lavorato insieme ad ASM e questa iniziativa credo che sia importante anche un riconoscimento dell'impegno che in questi 8-9 mesi stiamo dando come impulso al settore del verde e la raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti. Si sta lavorando, si sta lavorando e nello specifico vogliamo lavorare molto, investire molto per le nuove generazioni.